Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La drammatica notizia è arrivata questa mattina e lascia tanto dolore e incredulità. Il giornalista Rai si è spento a soli 42 anni. La drammatica notizia è arrivata questa mattina e lascia tanto dolore e incredulità per una vita spezzata troppo presto, secondo quanto riportato da fanpage.it, infatti, si è spento a 42 anni il giornalista Pietro Bellantoni, volto del TGR Calabria, dove era arrivato solo da qualche mese. Il cronista era stato colpito da un male nello scorso mese di marzo e si è spento stanotte, lasciando la moglie Carrie Tremantiana e una figlia piccola di soli due anni. Le varie esperienze giornalistiche nelle scorse ore, dunque, è arrivata la drammatica notizia della morte di Pietro Bellantoni, volto del TGR Calabria. Come riportato da fanpage.it, era nato a Scilla, in Calabria, ma da tempo viveva a Reggio Calabria. Qualche mese prima di scoprire il male che se lo è portato via a soli 42 anni, Bellantoni era stato chiamato nella redazione del TGR Rai. Tanti messaggi di cordoglio dei colleghi, stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei colleghi di Bellantoni che ne hanno voluto sottolineare la professionalità, la bravura e la passione per il suo lavoro, ricordando come il giornalista continuasse a collaborare nonostante stesse vivendo un periodo di grande sofferenza.